Essere sindaco di un paese come Rio Maggiore, conosciuto in tutto il mondo, con un flusso turistico sempre in aumento, cosa significa sindaco? Per me significa una grande opportunità e anche un onore, io sono nata e cresciuta a Rio Maggiore e essere oggi il primo cittadino è bello. Non ritiene sindaco che il sindaca, perché io continuo a dire sindaco e sbaglio, invece sindaca, anche perché le donne ci tengono a questo appellativo, che per mantenere un territorio fragile come quello delle Cinque Terre sia necessario immaginare che i giovani, le nuove generazioni abbiano un futuro di lavoro, anche di occupazione nel loro territorio. Ora queste condizioni sono in qualche modo garantite o no? O sono un progetto ancora tutto da realizzare? No, sono garantite sicuramente dal turismo, perché a Rio Maggiore, a Manarola, ma comunque in tutte le Cinque Terre ci sono tante attività commerciali che sono nate in questi ultimi anni. La sfida è quella di trasformare e di investire parte delle risorse che arrivano dal turismo sul territorio. Sindaco, la cosa che tutti si aspettano è via dell'amore. Finalmente abbiamo sentito che un po' di soldi sono arrivati o stanno per arrivare. Se la sente di azzardare un pronostico per quando avremo riaperto anche solo un pezzo di via dell'amore? Quanto ci vorrà ancora? Guardi, io spero che da gennaio, quindi nel 2017, riusciremo a varare il progetto esecutivo, quindi per i tempi tecnici, quindi in sei mesi massimo, dovrebbe essere pronto. In conseguenza poi potranno partire i lavori e dentro l'anno 2017 magari riuscire ad aprire il primo tratto. Bene, sono alcune delle domande e delle risposte che abbiamo avuto dal Sindaco di Rio Maggiore e questa sera se volete ascoltare l'intervista completa alle 9.30 su Teneriguria Sud.